Scary Hours 2, una compila di brani, una tris, una tripletta di Drake che attualmente è il settimo artista nel mondo, più cliccato su Spotify e che esce con questi brani diciamo ad anticipare un po' il disco che stiamo tutti aspettando annunciato tempo fa, deve uscire, non esce, non uscirà comunque con questi tre brani, uno singolo, what's next, uno con Lil Baby e uno con Rick Ross il pezzo che adesso andiamo a commentare che è Lemon Paper Freestyle quindi insomma è un freestyle quindi di conseguenza la tematica è molto esercizio di stile diciamo e la base, sono quella tipologia di base che a me piace di più quando si parla di freestyle cioè il campione che echeggia e lui, Drake, ne ha fatti parecchi così eh, di singoli, ne ha fatti tantissimi e diciamo che ormai l'esercizio di stile lui lo monta sempre su questa tipologia di arrangiamento e l'ospite è un nome d'eccezione, Rick Ross che insomma non è nato ieri affatto e tra l'altro io ho saputo neanche qualche mese fa, non ho mai parlato, non ho avuto occasione di dirlo che Rick Ross era una guardia carceraria quindi lui ok ti rappa col flow la pesantezza e la tematica di uno spacciatore di crack però a fatti concreti è una guardia carceraria, questo gli toglie forse diciamo una credibilità? secondo me no, anzi affatto cioè ragazzi vivere la realtà della detenzione in quelle vesti vuol dire comunque viverla vuol dire comunque avere a che fare con certi personaggi tutti i giorni poi in America la situazione è bella peso io credo che non sia, ecco ovviamente non te lo aspetti da uno che ha costruito diciamo un personaggio completamente differente è business, è il prodotto però a fatti concreti quando tu costruisci un personaggio e lo fai così bene vuol dire che comunque un po' lo sei, un po' lo vivi l'attitudine la conosci e quindi puoi essere stimato per quello stai facendo uno storytelling scusate ma quando tu vedi un grande attore in una serie Netflix che porta un personaggio che sì non può essere perché magari porta un assassino però sta portando fuori degli aspetti che gli appartengono altrimenti non ti arriva autentico non ti arriva geniale e quindi di conseguenza che cos'è? un assassino anche lui? un assassino mancato? no, semplicemente che a volte si può lavorare un sentimento, un'emozione un personaggio, uno storytelling in un modo tanto autentico che comunque ci prende dentro perché parte da noi stessi ed è il caso di Rick Ross che come rapper che gli vuoi dire? che gli vuoi dire? niente ha semplicemente trovato la chiave e l'ha portata avanti Drake invece ogni volta che mi parte sulla strofa io lo ripeto ogni volta mi dà proprio quel senso Young Money cioè si vede che lui è figlio di Lil Wayne sotto tutti gli aspetti e lo ha dichiarato più volte non me lo sono inventato io oltre al fatto che l'ha lanciato letteralmente e il modo in cui anche passano gli anni eccetera ma lui prende sempre la base in quel modo chiaro che Lil Wayne aveva un altro flow in quel momento Lil Wayne era il top del top ragazzi era l'innovazione totale Drake io lo so che magari suona meglio magari è più forte è l'allievo che supera il maestro quello ok ma dipende da che punto di vista perché il flow di Lil Wayne l'attitudine di Lil Wayne ha fatto storia e ha cambiato letteralmente cioè è stata una pagina del rap internazionale che lui ha preso e ha voltato cioè un prima Lil Wayne un dopo Lil Wayne per intenderci e quindi di conseguenza Drake è uno che ha fatto la storia da un punto di vista delle vendite eccetera però non so se è stato effettivamente così importante per la crescita, il cambiamento, lo sviluppo della cultura urban nel mondo come Lil Wayne in ogni caso il modo in cui prende la traccia soprattutto nel freestyle mi ricorda proprio Lil Wayne appunto in ogni caso la traccia è una bomba è un piacere ascoltarla non c'è molto da dire perché è un esercizio di stile sono quelle canzoni che devi pompare in cassa, in cuffia e che ti danno diciamo ti danno, ti danno tanto quindi di conseguenza io consiglio l'ascolto e soprattutto consiglio un ispirarsi da parte di tanti rapper italiani da un punto di vista stilistico ecco soprattutto perché questi artisti riescono appunto a fare il personaggio interpretare il flow a portare una certa attitudine vero però lo fanno con autenticità che è quello che spesso manca in Italia